Oggi torta morbida con le prugne, sì o no? Lavemo par bene le prugne sotto acqua corrente, le tagliamo a metà e poi a fettine fine. Una volta tagliate le nostre prugne, mescoliamo a farina e lievito. Setacciamo par bene, su una planetaria mettiamo uova, zucchero e un bel limone grattugiato. Mescoliamo il tutto a massima velocità, aggiungiamo a filo l'olio e infine abbassiamo la velocità e aggiungiamo a panna. Quindi è mix di farina e lievito. Sì o no? Guarda che cremetta! Pogliamo par bene uno stampo, lo infariniamo e aggiungiamo il composto. Lo stendiamo par bene e aggiungiamo le fettine di prugne, a modo e raggio. Guarda che robetta! Giusto un pizzico di zucchero, par di sora, e forniamo a 180 gradi per 45 minuti con il forno già caldo. Una volta pronta, facciamo raffreddare un'oretta. Beh, a spolverare il zucchero a velo, sì o no? Guarda che robetta, che bontà! Bello, bello, bello! Beh, se vi è piaciuto il video, mettete un like! Ciao!